Ciao amici value investor, si parla sempre dei vantaggi che i grandi investitori, gli investitori istituzionali, le banche di investimento, gli hedge fund, private equity fund, fondi pensioni, fondi sovrani eccetera, hanno nei confronti dei piccoli investitori. Vantaggi che indubbiamente hanno, hanno più informazioni degli investitori retail, le hanno prima, hanno più influenza sulle aziende quotate perché spesso hanno dei loro membri nel CDA possono nel breve anche far muovere il mercato con ad esempio i rating, le azioni eccetera. Ok, tutto vero ma non si parla però mai dei vantaggi dei piccoli investitori nei confronti dei grandi investitori. E in questo video vi porto non uno, ma ben sei vantaggi degli investitori retail, dei piccoli investitori perché per fare bene nel mercato azionario è importante capire chi siamo in qualità di investitore, quali sono i nostri svantaggi e soprattutto i vantaggi in modo da poterli sfruttare per aumentare le nostre possibilità di successo e non perdere soldi. Quindi non perdetevi questo video. Primo vantaggio e questo è il vantaggio più importante di tutti e sapete qual è il bello che non solo è il vantaggio che fa la differenza, un vantaggio quasi sleale oserei dire dei piccoli investitori nei confronti degli istituzionali ma che ce l'hanno tutti i piccoli investitori a prescindere dalle conoscenze, competenze, intelligenza, esperienza eccetera ed è l'orizzonte temporale. L'investitore istituzionale non può avere un orizzonte temporale di lungo termine, 5-10 anni anche oltre perché ai clienti e i clienti vogliono risultati subito non tra 5-10 anni e se il fondo in cui investono i clienti sottoperforma gli altri fondi per 6 mesi, 1 anno o 2 anni al massimo vanno ad investire in un altro fondo che ha fatto meglio nello stesso periodo. Questo significa quindi per il fondo perdere le fide ai clienti che sono quello che dà da mangiare, perdere il lavoro per il fund manager ed è tutto un disastro. Quindi se ci sono ottimi aziende ma con azioni a prezzi depressi su cui c'è tanta incertezza, cioè quella che può essere un'occasione d'oro per comprare, gli istituzionali non possono sfruttarla perché non sanno quanto durerà la negatività su queste azioni, non possono accumulare su queste aziende perché rischierebbero di sottoperformare nel breve. Cosa che invece l'investitore retail può fare, può accumulare per qualche mese o meglio ancora anno su ottime aziende ad ottimi prezzi ma la maggior parte dei retail sappiamo che non lo fa, non usa questo suo vantaggio competitivo e vendono quando le azioni sono depresse o comprano quelle che invece sono in hype e quindi spesso sopravvalutate. Cercano di operare nel breve come se avessero anche loro dei clienti a cui mostrare dei risultati nell'immediato. Secondo vantaggio degli investitori retail è che possono investire in aziende con qualsiasi tipologia di capitalizzazione, nano cap, micro cap, small cap, cosa che i grandi fondi non possono fare. Investire in aziende a piccolissima capitalizzazione e poco liquide perché non riuscirebbero a comprare abbastanza azioni da poter generare un impatto sul loro portafoglio. Quindi gli istituzionali possono investire solo in aziende da una certa capitalizzazione in su mentre noi retail abbiamo un universo di aziende in cui poter investire sterminato, molto più vasto e abbiamo più possibilità di investire in aziende di elevata qualità ma che sono anche a buoni prezzi perché non sono sotto i riflettori del mercato, sono ignorate dai grandi investitori. Terzo vantaggio possiamo investire in aziende di ogni settore mentre i grandi investitori hanno spesso nello statuto o nella strategia del fondo chiamatelo come volete dei vincoli ad esempio non possono investire in settori particolari come la cannabis legale, il tabacco a volte o le armi. Noi retail invece ce le facciamo da soli le regole e se le nostre regole dicono investiamo ovunque ci siano delle opportunità si investe ovunque. Quindi anche in questo caso l'investitore retail ha molte più possibilità di investimento rispetto a quello istituzionale. Quarto vantaggio posso investire in ogni mercato geografico. Molti fondi non possono investire in mercati tra virgolette esotici dove per esotico si intende a volte anche semplicemente Hong Kong, la Polonia o il Brasile. Ci sono addirittura fondi americani che possono investire solo negli Stati Uniti. Quindi pensate un po' a quanto il nostro universo di aziende a cui possiamo attingere sia molto più grande dei grandi investitori. Se vostra moglie ad esempio è indonesiana e conosce bene un social media del posto in Indonesia che è super utilizzato dalle persone e voi analizzate le aziende e anche un ottimo bilancio avete un vantaggio sleale nei confronti degli istituzionali. Quinto vantaggio noi abbiamo il lusso di poter investire solo in quello che conosciamo bene. Cioè è vero che l'universo di azioni in cui possiamo investire è enorme ma possiamo permetterci il lusso e il vantaggio di investire anche solo in quei due o tre settori che conosciamo come le nostre tasche. Questo è un vantaggio che gli istituzionali non hanno perché uno dei motti dei fondi è diversificare il più possibile. Quindi non puoi avere solo aziende di tre quattro settori ma un fund manager deve avere tutti i settori anche in quelli dove sa davvero poco. Al massimo avrà letto dei report degli analisti o qualche ricerca di mercato ed è improbabile che un fund manager abituato a stare nel suo ufficio tutto il giorno possa conoscere bene la ristorazione ad esempio come uno che ci lavora da una vita o i videogame come uno che passa tre ore al giorno a giocare a videogame e quindi rischia di non poter fare bene se deve investire in settori che non conosce. E inoltre questo povero fund manager deve investire per forza nei settori in hype. Se il settore dell'intelligenza artificiale delle auto elettriche dell'energia solare eccetera si fa un più 50 per cento e tutti ci stanno investendo e lui non lo fa non ha azioni in questo settore lo seguono alla grande quindi deve investire in settori che magari non conosce nemmeno e probabilmente comprando anche aziende sopravvalutate perché se sono in hype questi settori è probabile. Sesto vantaggio come detto devono diversificare i fondi noi no noi abbiamo il vantaggio incredibile che non dobbiamo tagliare le rose e annaffiare le erbacce cioè se un grande investitore ha in portafoglio una potenziale multi beggar la monster energy drink di 20 anni fa ad esempio e queste azioni cominciano a salire e dal 2 per cento che rappresentano del suo portafoglio arrivano a rappresentare il 5 per cento questo povero cristo deve tagliare la posizione perché non può ad esempio sforare il 5 per cento del suo portafoglio ogni posizione non può essere troppo esposto in un titolo mentre noi abbiamo la possibilità di lasciar crescere una posizione e tenerla senza mai tagliarla per 20 anni e se questa è un'ottima azienda può essere un 10x un 100x ma ci vogliono 20 30 anni per avere un rendimento di 100 volte e i fund manager non sanno nemmeno se l'anno prossimo ci saranno ancora nel fondo figuriamoci guardare a 10 20 o 30 anni cioè abbiamo dei vantaggi straordinari nei confronti degli istituzionali quasi sleali dovrebbero impedirci quasi a noi piccoli investitori di poter competere con loro ma non lo fanno e anzi noi siamo la loro carne da macello il loro strumento per fare soldi perché non sfruttiamo i nostri vantaggi competitivi e facciamo di peggio giochiamo secondo le loro regole giochiamo sul breve cerchiamo di speculare sulle notizie di beccare l'azione ai minimi beccare l'azione che farà meglio nei prossimi tre mesi speculare con le opzioni eccetera e quindi vogliamo fare le stesse cose loro non avendo le loro competenze e strumenti e quindi essendo loro molto più bravi di noi con le loro regole ci fanno il mazzo cioè se davanti a noi abbiamo mike tyson e dobbiamo decidere a che gioco giocare con lui lo invitiamo sul ring ad un incontro di box o ad una gara chi fa la migliore pastiera napoletana perché so che è la mia specialità siamo dei coglioni se andiamo sul ring con mike tyson ma la maggior parte del retail fa questo vuole fare trading battere gli altri perché è un gioco a somma zero io compro da te con la speranza di trovare uno più coglione di me che in qualche mese al massimo compra la mia stessa cosa ad un prezzo più alto quando potrei investire in un'ottima azienda per 20 anni un'azienda che crea ricchezza vendendo prodotti e servizi che aumenta quindi di valore e non devo inculare nessuno per guadagnarci ci possiamo guadagnare tutti semplicemente dalla ricchezza che questa azienda ha generato nel corso dei decenni e noi invece vogliamo andare a rubare a casa dei ladri ok ragazzi secondo vedete questo approccio di investire in modo diverso dagli istituzionali e di sfruttare i nostri vantaggi potete unirvi al nostro gruppo disco del circolo dei value investor dove impariamo a leggere bilanci analizziamo aziende valutiamo aziende per unirvi vi basterà supportarmi con un piccolo contributo su patreon e avrete l'accesso al disco in cambio link in descrizione fatemi sapere se pensate che il piccolo investitore abbia effettivamente dei vantaggi sui grandi o è un fuori di testa voler investire in autonomia un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da davide